Le nostre scuole primarie e bilingue lavoriamo su un progetto interdisciplinare, alla buona riuscita del quale convergono tutte le aree. Siamo sei docenti, ognuno con una sua specializzazione in un'area precisa, l'area linguistica, l'area logico-matematica, l'area della lingua straniera, l'area antropologica, così come le aree laboratoriali. Noi portiamo avanti i laboratori di suono, il laboratorio di movimento, il laboratorio del circo, cioè degli arti circensi, che contribuiscono alla formazione piena di un bambino.